Grazie, buonasera, sono Armon de Blen Sì? E sentite, signore, mi sta contando per cercare un episodio che mi è successo a mio marito. Cioè, cosa succede? E l'altro giorno è venuto l'occhio, si è accattata una camicia e l'armante. Sì. E niente, lì mi si è lavata la vetrice. Sì. L'ha già cacciata, si è fiuto con la coppa camicia. Non ho capito, si è scambiata la camicia. Se ne è fiuto con la coppa camicia. Ah, si è spaccato il bastotto dalla camicia. Bravo. Ma siccome che quando c'è il cane se ne fu, torna sempre il tuo patrò. O tu non esseri lui in tuo negozio, fosse tornata là, perché io non la posso trovare io. Allora, signora, devi portare la camicia al negozio dove l'ha comprata. Poi provete il negozio anche a inviarla a noi e noi le facciamo sapere. Ma o cane, fosse venuto nella tavola da là? Non ho capito, signora. O cane, coppa la camicia. Sì, ho capito. Fosse venuto nella tavola da tu, patrò? Eh, sì, deve ritornare al negozio. Eh, signora, non capite nì, andate là. E' giusto, o cane, se ne è fiuto, coppa la camicia. Eh, ho capito, la camicia la deve riportare al negozio. E' giusto, il negozio fa il cambio. Non so, la manda a noi e noi le stavole facciamo il cambio. Eh, ma di cosa ne è venuto là? Signore? Pronto? Pronto? Signor, si te la titolara. Sì, ma che hai fatto? Pronto? Pronto, signora, lei è? Sono la signora Concetta. Da dove chiama, signora Concetta? Da casetta. Ho capito. Qual è stato il problema? Che mio marito si è comprato la camicia al logo. Sì? E quella si è sporcata. E l'abbiamo messa nella lavatrice. Sì? Ho cacciato la camicia. Sì? E se ne è fiuto il cane da sopra la camicia. Dice, ma siccome che quando il cane se ne scappa, ritorna sempre dal padrone, fosse venuto la tavola dall'alto. No, signora, non è arrivata quel qua. Sì? 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 C'è la farmacia? C'è la farmacia? Sì. Tengo un problema a casa. Dimmi a parlare. Come? Dimmi a parlare. E nè? Nei? 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 E nè? E? 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 Ei, i'vecite ishi a parlare. E? 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 C'è l'anima? E? 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 Il mio del suo corpo è conosciuto da me! E' questo già adesso? ...il mio il mondo. ...sai già sperato per sempre, eh? ...il mio governo è stato un suo lavoro di passi. E' stato un avviso, non sono mai di più! ...il mio conto di vingosci? ...il mio i bambini! ...il mio i bambini è stato un altro! 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 e' un gianguino e' un gianguino e' un gianguino e' un gianguino non ci capis E che vuole renderlo bene? Ma che vuole? E questo è un po' di pallone. E questo è il suo lavoro? Ok 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 Ah che vuole vuole? Questa è un po' di più quando è un po' di più del tutto. E' un po' di più! Il centro estetico di Giovanna Il centro estetico di Giovanna Sì, si è? E voi siete papà titolare? No, sono la nipote, chi è? Signore, io sto parlando po', perchè stasera ho compleanno a me Sì E voi siete papà titolare Sì Signore, io Avessi un consiglio Comunque siete Aggiungere E questo fa divertire mio marito A fare un palillo Che mi potesse fare? A disposizione Pronto? E voi siete la signorina Giovanna Sì, dite Sì Sono la titolare Dica Senti, stasera volessi stupire poco a mio marito Non ho capito Questa sera vorrei stupire mio marito Perchè è il mio compleanno E lo vorrei scatofare Ehi, come lo vuole stupire il suo marito? Io Qualche sera fa Vorrei che stasera avrei qualche cinema tutto il E non ho capito E perchè Non ho capito E mio marito Occe molto fine Capite mamma E invece E ma vuole stupire lì Tengo l'età Però Tengo un calmo Come dicevi? e signore se non volete stupire venite qua e vi faccio una forma che vi piace io non ho capito 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 guarda bello ma facete la creare quando dici queste cose a me e quando vuoi trovare e per me vorrei qualcosa pure più questo perché quello là arriva un punto e poi siamo capiti io non ho capito ma io non ho capito una sola cosa che ha da quella qua e ho capito faccio interrogativi e un esclamato se vuoi l'interrogativo possiamo fare qui e allora mi viene con me faccio un esclamato esclamato perché quello era a botta passata ah ah signore però guardate io sono troppo piccata qua non pare di essere fatto io stasera c'è cattato pure la viagra si è stato accorso c'è un impatto che fa tutto il colpo no no ha detto capito ora c'è un'assenza lì ce l'ha girato stamattina e quello mio cattolo e quello che ho fatto io ce l'ho girato io ce l'ho girato ah ce l'ho girato io ce l'ho girato io ce l'ho girato io ce l'ho girato che se faccia un mondo ah se capì e va voi e vedi a voi e io non posso dire quando ti dano? e vedi a voi vedi da voi e voi dovevano? guardate mi da fare un bellissimo come? mi vedi un po' di colorato se ti piace un russi? ooooh io ce l'ho girato ma che lo ha girato non ho capito che ho fatto quello oggi fuori che no e il tifoso di Napoli ah il tifoso e potremmo fare l'ora e facciamo i meshi blu ah brah perchè qui non sono bianche e nero non mi parevo rischi che io sono gioventile ah e allora potremmo fare una meshi blu e non facciamo i meshi blu come piace a voi bello come unico stupido ma vieni a che tu stupisci ah ma giocato a livello è minuto ma che mi fai mettere come? come si chiama con l'ufe o benidol no o benidol brah brah come chi è marcia io non sono che i marciani io sono che i casetti guardiamo un spaccalof ah 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 e tu senti che sei decaduto e tu non puoi accendere che tu stai è un saccio un saccio oi mo ti ho pagato la mazzerina e la capatrice brah è quello che mi ha detto e i puzzanelli ah e il popolo dei capatrice ma contaminato ah e il babbun ah e allora aspettate ma che fortemente tipo comunque se non devi venire a te e te e te e te e io faccio una bella meshi io quando vedi mi faccio chiamare cipino 84 ma il mattino 84 cipino o cipino ah io te e te e te che bella ma mi hai fatto eeeh mi preoccupare ma che mattino ma non è non è ah se tutto il tuo posto ma non mi preoccupare mi preoccupare mi rubanova a te eeeh che figlia mia non vedi che io le ho praticano ti ho riuscerto Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info